Sono terminati nei giorni scorsi i lavori di manutenzione straordinaria dei camminamenti del giardino storico del castello di Torre. Un intervento eseguito anche per ridurre i costi di manutenzione che conferma l'attenzione dell'amministrazione comunale verso uno dei luoghi più suggestivi di Pordenone. Un ambito che nel corso degli anni è stato rivalutato non solo attraverso il recupero di questo incantevole polmone verde ma anche attraverso l'apertura di alcuni contenitori culturali, penso il museo archeologico ma anche l'immaginario scientifico e attraverso l'organizzazione di alcune manifestazioni come Humus Park, il meeting internazionale di Land Art che ha richiamato a Pordenone non solo numerosi artisti provenienti dall'estero ma anche tantissimi visitatori. La progettualità messa in campo dall'amministrazione comunale per valorizzare quest'ambito tuttavia non si è esaurita nonostante gli importanti risultati già raggiunti perché abbiamo ottenuto partecipando, vincendo a un bando regionale, dei fondi europei che ci consentiranno di realizzare un nuovo percorso ciclopedonale che si svilupperà a lungo l'ansa del fiume Noncello e collegherà la zona archeologica al centro città attraverso il parco del seminario. Questo intervento consentirà di aumentare le opportunità di fruizione dell'ingente patrimonio naturalistico ed ambientale che caratterizza in positivo la nostra città e anche del sistema museale che verrà messo in connessione da un percorso immerso nel verde.